amici direte otto buon pomeriggio noi vi facciamo questa splendida sorpresa a fianco a me c'è gelfry ciao gelfry ciao intanto come stai c'è la mamma qui a fianco a me guarda tutti i tuoi amici tutto bene va bene amore qui ci sono tutti i tuoi amici che ti mandano un grande abbraccio gelfry intanto come come ti senti che ci puoi raccontare tutto bene grazie a dio solo devo dire solo questo grazie a dio che sto bene poi vederti vederti anche con un po di sorriso vuoi mandare un messaggio intanto alla mamma e ai tuoi amici qui noi non c'ho parola per loro io mi grazie tanto per tutto non c'ho parola veramente non piangere non piangere certo amore se volevamo tanto bene un po la mamma viene da te siamo veramente contenti di vederti la mia vita per stare con me io sto con voi quindi andiamo tutti avanti e grazie a tutti grazie a tutti a tutti amici a mia mamma mia famiglia a tu mandiamo un grande abbraccio buona pasqua gelfry che sia l'inizio della tua nuova vita un abbraccio grande gelfry guarda il saluto di mamma e degli amici grazie ragazzi ci vediamo presto ciao grazie comunque sto meglio sto bene questo è veramente importante sto bene grazie a dio riposa lì e poi ti aspettiamo forte ti veniamo a trovare va bene tanto già ci conosciamo e te ciao 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 come no ma poi anche emanuele poi ci salutiamo tutti insieme emanuele cavallucci vai il chigno il chigno bravo bravo gelfry vedi poi ci vediamo e ti inviterò in trasmissione appena ti sei rimesso con emanuele va bene grazie mille ciao geoffry un abbraccio ciao amore miei ciao amici direte otto noi abbiamo fatto che abbiamo fatto questa sorpresa grazie ancora gel free grazie alla mamma grazie a tutti gli amici buona pasta gel free e mi raccomando rimetti di presto ciao grazie ciao